Nelle interviste di Viva Arte Venezia doveva succedere, può capitare che l'artista purtroppo non è potuta essere presente, l'artista è Paolo De Gregorio. L'opera che vedete alle mie spalle, questa grande tavola in legno dove ci sono delle scritte, chi è, sono io e altre varie scritte, ha sicuramente un importante valore simbolico al punto tale che l'artista ha deciso di realizzare uno scritto che vuole narrare, che vuole descrivere la sua opera che allegheremo insieme a questa clip, insieme a questo video, di modo che per entrare ancora di più nell'opera possiate leggere direttamente le parole che l'artista ha scritto per la descrizione della sua opera. Paola De Gregorio a Viva Arte Venezia